di Puglia. Ruvo di Puglia ha celebrato la giornata nazionale del ricordo dei martiri delle foibe. Alla presenza del primo cittadino Vito Ottombrini alle ore diciotto in via martiri delle foibe è stato depositato un mazzo di fiori. Alla presenza del presidente del comitato dieci febbraio Michele Pellicani, del presidente regionale dell'associazione nazionale Bersaglieri Ferdinando Damiani Ruvo di Puglia ha così onorato la memoria di tre cittadini ruvesi Vincenzo Pellicani, Mario Chiarulli e Deonato Minafra vittime delle foibe. Abbiamo intervistato per voi il sindaco Vito Ottombrini e il presidente del comitato dieci febbraio Michele Pellicani con il sindaco Vito Ottombrini per questa giornata del ricordo. Io voglio solo dire che è una giornata da ricordare così come è stato stabilito da una legge dello Stato e devo dire grazie al presidente dell'associazione dieci febbraio che ha organizzato questo momento di riflessione su una ecco su delle giornate tristi per quanto riguarda cittadini italiani che sono stati infoibati dagli dalle truppe jugoslavi. È stato un momento triste che per molto tempo è stato nascosto nei libri. Oggi i libri sono stati aperti e anche questa brutta notizia viene posta all'ordine del giorno e tutti quanti dobbiamo ricordare per non dimenticare. Sono tragiche situazioni che non devono mai avvenire, non devono mai avvenire e tutti quanti dobbiamo lavorare, essere veramente attenti a questi momenti poco facili che viviamo non solo in Italia ma a livello internazionale e stare attenti affinché brutte situazioni verificate se tanti anni fa non ritornino nel mondo intero. questo è l'auspicio che mi sento di rivolgere a tutti gli uomini, a tutti i cittadini che vivono in questa nazione veramente civile e democratica quale è l'Italia. Con Michele Pelicani per questa giornata del ricordo molto sentita, molto voluta dal comitato Marti delle Foib. Se in effetti è così per il secondo anno consecutivo, grazie a Dio, grazie all'amministrazione comunale abbiamo organizzato questa giornata, lo scorso anno lo abbiamo fatto a Palazzo Caputi, quest'anno proprio in questa via dove lo scorso anno insieme a un solo un amico, a Giuseppe Mazzone, abbiamo deposto un mazzo di fiori in ricordo dei martiri, dei tre cittadini ruvesi purtroppo infobbiati in quelle cavità corsiche che ahimè hanno visto perire tanti italiani. Il ricordo di una storia assurda, una storia volutamente dimenticata, una storia che per noi bersaglieri assume un significato più profondo perché è stato annientato, distrutto un intero battaglione di bersaglieri, ragazzi appena ventenni che per un sciagurato ordine politico-militare hanno ceduto le armi e sono stati massacrati, praticamente disintegrati. Questa storia va ricordata, va riesumata perché quei bersaglieri, quei ragazzi hanno bisogno di avere almeno il riconoscimento della storia. Una città attenta, una città che grazie al vostro operato è cresciuta dal punto di vista dei ricordi, della storia, della sensibilizzazione a queste tematiche. Sì, in effetti è così. Ruvo, diciamo che è diventato la bersagliera d'Italia perché noi con il nostro lavoro a Ruvo abbiamo puntato su quei valori patriottici che ormai si erano affievoliti, non se ne parlava più, ma diciamo che un pochettino tutta la Puglia sta diventando bersaglieresca perché con tutto il lavoro proficuo che sto svolgendo da presidente regionale veramente la Puglia è la numero uno a livello nazionale oggi. La giornata nazionale del ricordo dei martiri delle foibe è dedicata alla memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, come recita la legge 30 marzo 2004, numero 92, che l'ha istituita. Sono intervenuti nel corso della serata anche Antonello Paparella e Maria Tiziana Rutiliani che abbiamo intervistato per raccogliere un loro contributo su questa giornata, molto importante. La seconda edizione è questa, l'anno scorso io con gli altri rappresentanti del comitato 10 febbraio abbiamo organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale questa giornata presso Palazzo Caputi, abbiamo fatto intervenire le scuole, quest'anno abbiamo voluto diciamo fare questa commemorazione qui proprio in via martiri delle foibe con la gente proprio all'aperto, cercheremo di proseguire in questo cammino perché riteniamo che il 10 febbraio questa giornata del ricordo sia da ricordare nella stessa maniera in cui vengono ricordati tutte le altre vittime diciamo di olocausti, di barbari dell'umanità. Magari un passo in più con il coinvolgimento anche eventualmente delle scuole. Certo ma questo è necessario attraverso una collaborazione che si deve creare da parte del comitato con l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale oggi ha risposto dando il patrocinio e diciamo collaborando in merito a questa iniziativa, è necessario che questa iniziativa diciamo si sviluppi, siamo al secondo anno, io credo che con gli anni a venire questa giornata possa essere ricordata in maniera sicuramente più importante di come già il comitato si sta adoperando. Con Maria Tiziana Rutigliani per questa giornata del ricordo, una presenza significativa, un momento importante per la città. Sì, sono stata molto contenta di aver ricevuto l'invito a questa manifestazione odierna da parte degli organizzatori. Innanzitutto per quello che rappresenta per Ruvo, un ricordo dei nostri concittadini e in generale per l'importanza che ha questa ricorrenza, una ricorrenza che per tanti anni non ha avuto il giusto riconoscimento, non è stata compresa e ancora oggi per molti continua ad essere un pezzo di storia oscuro, un pezzo di storia che ovviamente non può avere nessun colore di partito, che fa parte della storia d'Italia e che ci deve vedere tutti vicini a quelle che sono state le vittime di quell'episodio così tragico.